ciao a tutti popolo del tubo e benvenuti in questo test mod per console per pc oggi vi porto una moddina uscita ieri che potrebbe essere sottovalutata magari uno la guarda e dice che cagata e la sottovaluta e invece no ragazzi è una di quelle mod che se guardata meglio una di quelle mod a cui bisogna prestare un pochino di attenzione è una di quelle mod che poi si rivela molto 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 utile e indispensabile ovvero che cosa ci permette di fare questa mod dell'idea che ha avuto il mod è grandiosa questo dimostra che ancora con la giusta idea su questo gioco diciamo ci sono una marea di script base da sfruttare ha preso gli script delle produzioni dei silos insomma tutti quei script e quei trigger che hanno una funzione e li ha messi posizionabili che significa significa che noi possiamo trasformare un qualsiasi edificio in quello che noi vogliamo ovvero una casa può diventare una produzione una casa può diventare un silos una casa può diventare un fienile qualsiasi punto della mappa che a noi piace può diventare qualcos'altro di funzionale ora è più difficile spiegarlo che farvelo vedere quindi adesso andrò a farvi vedere meglio il senso della mod prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like che per me è importantissimo di attivare la campanellina non vi costa nulla è il metodo più veloce e gratuito per sostenere il canale vi ricordo poi i miei social tik tok qua sotto in descrizione vi ricordo poi facebook instagram la mia piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine tutte le sere se avete amazon prime potete abbonarvi gratuitamente aiutandomi e sostenendo ora andiamo a vedere un po come vi ho già detto ogni categoria di edifici posizionabili con funzione ha il suo adattable trigger ad esempio questo in silos è un fienile quindi vedete che questo è praticamente un fienile che funziona già da solo cioè voi già così lo potete posizionare e funziona ovviamente non è è brutto c'è l'idea è quella di adattarlo ad un qualsiasi edificio quindi se voi lo volete adattare ad un qualsiasi edificio dovete ovviamente posizionarlo vicino a quell'edificio e mi raccomando il terreno deve essere di vostra proprietà vi ricordo sempre che per attaccarvi a un altro edificio quindi per fare proprio le cosette carine avete bisogno di aprire l'f1 e mettere modalità libera sì ok perché se voi mettete modalità libera no non riuscite a soprapporvi a un altro oggetto invece con modalità libera sì riuscite a soprapporvi a un altro oggetto adesso io faccio totalmente così a caso posizionate e una volta che voi avete posizionato in questo caso abbiamo messo giù il silos avete il vostro silos ragazzi vedete questo è diventato un fienile la nostra casa è diventata un fienile ma non solo la nostra casa può diventare tutto quello che vogliamo perché come vedete c'è anche il trigger per il magazzino balle pallet quindi un qualsiasi edificio della mappa può diventare un magazzino di balle e pallet quindi ad esempio noi mettiamo giù questa casetta dei 4 metri quadri ecco fatto poi gli mettiamo giù il trigger suo eccolo vedete gli mettiamo sempre mi raccomando modalità libera raga gli mettiamo giù il trigger suo eccolo magari così ed ecco fatto che la casettina è diventata un un posto per stoccare i pallet e le balle vedete ragazzi niente di più semplice niente di più facile ovviamente state sempre attenti a dove mettete i trigger come li posizionate ora vediamo tutte le opzioni che ci sono e abbiamo già visto insomma il fienile abbiamo visto il magazzino balle e pallet abbiamo anche l'officina meccanica quindi ogni posto può diventare un'officina con questo trigger abbiamo anche la panchina che ci permette di dormire di cambiarci è purtroppo che in difficoltà economiche va a dormire su una panchina purtroppo raga è la triste realtà poi abbiamo questi cartelloni ragazzi che praticamente sono tutte le produzioni del gioco porno carpenteria fabbrica di cereali caseificio mulino frantoio lavorazione dell'uva filanda zuccherificio e sartoria facciamo un altro esempio ad esempio a me non piace il il frantoio del gioco prendo il trigger del frantoio me ne vado in giro per la mappa mi raccomando ragazzi dovete prima comprare i terreni ok dovete sempre prima comprare i vari terreni io vado in giro per la mappa ora questa è la herlengrat ragazzi non è che c'è così tanto da esplorare però magari in altre mappe c'è più roba da esplorare eccetera eccetera ora io vado in giro ecco vedete qui dice terreno e non di tua proprietà dovete ovviamente comprare i vari terreni e purtroppo ragazzi non ci pensavo che la herlengrat non ti fa comprare i terreni dove ci sono dove ci sono insomma dove c'è la roba base della mappa vabbè comunque andiamo a simulare che noi vogliamo il frantoio in casa quindi prendiamo il trigger del frantoio lo posizioniamo fuori dalla casa di qualsiasi edificio lo mettiamo giù e come vedete abbiamo il frantoio in casa voi venite qua sopra e c'è il punto vedete questi cartellini saranno il punto di gestione della produzione e qui sarà il punto dove nascono i pallet quindi abbiamo attaccati tutti e due i trigger uno di input uno di output questo è l'input questo è l'output e questo è il punto gestione quindi abbiamo tutti e tre trigger attaccati ovviamente abbiamo anche i punti vendita qui c'è un bellissimo punto vendita 1 e qui un punto vendita 2 ce l'abbiamo una forma di trigger col cartello e una forma di appunto di griglia per lo scarico è un peccato che la mod non abbia la stessa funzione per le stalle probabilmente è molto più complicato non è così facile prendere i trigger e trasformare qualsiasi edificio in stalle ma per pc per quanto riguarda le stalle c'è una mod molto interessante che andremo poi a provare vediamo se nella giornata di oggi o di domani comunque ecco se siete da pc poi vi farò vedere anche una mod molto interessante qui questa mod però non va a toccare le stalle si parla solo di funzioni di silos di stoccaggio e di produzione punti vendita amici spero che questa mod sia stata di vostro gradimento io vorrei sapere nei commenti se l'avevate sottovalutata se adesso l'avete valorizzata soprattutto vorrei sapere se la userete perché secondo me secondo me è molto 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 importante ragazzi è molto molto importante questa questa produzione ora fatemi sapere tutte le vostre opinioni lasciate un bel like chino mettete 5 stella la mod se la ritenete utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao